Inizio alla 61esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Al prossimo episodio Al prossimo episodio Benvenuti al 61esimo Festival di Sanremo Siamo in diretta Eurovisione Abbiamo cominciato con l'energia di Daniel Ezralove e i suoi danzatori Insieme alle campionesse della squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica Già due volte medaglie d'orio ai mondiali sono atlete del gruppo sportivo aeronautico militare Bravissimi tutti